Uno può benissimo non uscire dalla stessa stanza e viaggiare con la fantasia, però io ho un altro vantaggio, che sto a Genova. Genova è una città che veramente ha delle prospettive talmente diverse che io posso passeggiare sempre dalla stessa strada e vedere sempre cose nuove. Il film forse più importante e anche più difficile è stato il platto magico. Ponderlein, so liebe Kleine, Ponderlein, so liebe Kleine, Ponderlein. Eher, keine kleine Papagina, und wieder eine Papagina, und wieder eine Papagina. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.